un minuto con padre pio dai luoghi del convento di san giovanni rotondo ci troviamo nel percorso che fanno quotidianamente i pellegrini accanto alla clausura ecco al di là di questa porta i pellegrini non possono accedervi ma vi è la cella numero 5 e il sacellum in un altro luogo fondamentale significativo per la vita di padre pio quel luogo dove lo ha visto segregato per circa due anni dal 31 al 33 poteva celebrare messa da solo perché qui perché vogliamo raccontarvi che nella sua solitudine a pietrelcina nel 1912 il giovane frate minore cappuccino era vessato dal demonio proprio il 6 novembre del 1912 c'è una lettera che arriva da padre agostino a padre pio è una nuova strategia padre agostino scrive in francese è uno di quei doni particolari che ha avuto anche in vita padre pio avere la possibilità di conoscere altre lingue ma in questo caso era il suo angelo custode che li faceva da traduttore e infatti in questa nuova strategia che usava lo stesso padre agostino era perché padre pio gli aveva comunicato qualche giorno prima che il demonio vuole annullare tutte le lettere di conforto e allora così padre agostino scrive in francese infatti scrive montrescheri fill in gesù christ se avec plaisir j'apprende la nouvelle phrase della guerre allora lui racconta tutto quello che sta accadendo ecco questa nuova strategia e subito sotto noi riusciamo a capire il perché di questa nuova strategia c'è un bigliettino del dell'arciprete di pietrelcina don salvatore pannullo che scrive attesto qui sotto arciprete di pietrelcina sotto la santità del giuramento che la presente aperta alla mia presenza giunse così macchiata ma era del tutto illeggibile e questa foto che ci permette anche di dare uno sguardo a quella che tra l'altro che voi conoscete tutti nel suo epistolario abbiamo tante volte visto risale proprio a questa giornata don salvatore scrive che messo di sopra il crocifisso e la spersa l'acqua benedetta recitati i santi esorcismi si poté leggere come presentemente di fatti chiamata mia nipote grazie a pannullo insegnante la lessa la presenza mia e del padre pio ignorando quanto fu praticato prima di essere chiamata in fede pietrelcina l'arciprete don salvatore pannullo questo era quello che accadeva a pietrelcina nelle sue battaglie nei combattimenti tra padre pio e il demonio grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti